Ieri pomeriggio la Gelbison ha disputato la consueta amichevole infrasettimanale contro la squadra Juniors. 13-0 il risultato finale con Sené, autore di tre reti, in gran spolvero. Mr. R ha cominciato ad abbozzare un'idea di formazione in vista della sfida di domenica prossima che vedrà i rosso-blu opposti al noto. Squadra sensibilmente rafforzatasi durante il mercato dicembrino e autrice di una strepitosa rimonta che attualmente la pone ai margini della zona play-out. Sarà dunque sfida vera con due squadre ancora in corsa per centrare i rispettivi obiettivi. Tra le fila della Gelbison, con molta probabilità, mancheranno De Cesare, Viciconte e Grimaudo, tutte e tre alle prese con problemi di natura muscolare. Sarà la quarta volta in assoluto che le due squadre si incroceranno, tutti favorevoli precedenti a favore della Gelbison. All'andata finì 1-0 per i cilentani grazie ad un bel gol di testa di Pecora allo scadere. Nello scorso campionato, alla vittoria di rosso-blu 1-2 in Sicilia, grazie ai gol di Senesiga, seguì un pareggio 1-1 a Vallo della Lucania, con realizzazione di Sica su calcio di rigore che segnò la salvezza matematica della Gelbison con un turno di anticipo.